Questo video riguarda i migliori tre robot tagliaerba. Il vincitore della qualità è il Gardena Minimo. Completamente automatico, preciso e affidabile, Gardena Sileno si occupa minimamente della cura del prato. Grazie al sistema SensorCut non lascia strisce, ma garantisce un taglio equilibrato. È adatto per prati fino a 250 metri quadrati. Passaggi stretti e passaggi ciechi sono facilmente cuciti grazie alla funzione CorridorCut. Per l'orientamento necessario è presente un cavo di limitazione, che definisce la zona di rasatura. La regolazione dell'altezza di taglio del Tosaerba varia da 2 a 5 cm. Il Sileno Minimo è utilizzabile indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e così silenzioso che non si sente a malapena. Una volta finito, ritorna automaticamente alla stazione di ricarica. In caso di necessità si può facilmente afferrare il tubo da giardino per pulire la cassa, il coltello e le ruote. Il Sileno Minimo può essere controllato tramite l'app Bluetooth Gardena. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Einel Freelax O500. Un verde intenso ha bisogno di una cura corretta, il taglio giusto. Con il robot Tosaerba Freelax O500 LCD BTE+, la migliore cura in giardino include attrezzature di installazione fino a 500 m2 e una potente batteria Power Exchange da 2,5 a della famiglia di sistemi flessibili di Enel. Il Tosaerba Multizona si prende cura in modo indipendente e instancabile della superficie del prato, anche in giardini angolati, angoli silenziosi e aree verdi complesse. Freelax O500 è programmato da una pratica app con connessione Bluetooth. Freelax O500 appartiene alla potente famiglia Power Exchange, che offre una flessibilità senza limiti all'interno della famiglia di sistemi. La batteria Power Exchange da 2,5 a inclusa nella confezione può essere combinata con tutti i sistemi della famiglia di prodotti. Grazie all'app Freelax O500 può essere controllato individualmente tramite Bluetooth o tramite il tastierino con display LCD intuitivo. L'orario di lavoro può essere programmato con precisione durante il giorno, inoltre Freelax o dispone di un programma di falciatura per superfici secondarie. Il vincitore del premio è il WORX S300. Tempo di ricarica, 240 m in circa, livello di pressione sonora, 65 dB, permette di trattare fino al 30% di superficie in più rispetto a un altro robot nello stesso tempo, tecnologia di taglio AIA brevettata che consente al robot di accedere a zone ristrette e accesso difficile, sistema plug and play integrato. Gestisce M il taglio dell'erba fino a quattro diverse aree, calcolo del percorso di taglio ottimale e gestione di percorsi complessi, sicuro. Sensori di sicurezza bloccano immediatamente l'erotazione delle lame in caso di sollevamento o il ribaltamento. Calcola l'area in cui operare in modo semplice percorrendo il perimetro con lo smartphone, in programmazione automatica l'applicazione calcola automaticamente un programma di lavoro in base alle dimensioni del prato. Axe sensori ad ultrasuoni che consentono di evitare gli ostacoli senza ortarli controllo vocale con il sistema di controllo vocale integrato, Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.